Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video iniziale, prima di iniziare la partita volevo dirvi un paio di cose, allora la prima, beh, siamo secondi, abbiamo perso qualche punto, ma alla fine siamo sempre a 6 punti, quindi va bene, la seconda cosa che ho acquistato un altro giocatore in prestito, Jedwaj, ha 66 e ha 18 anni, è veramente una promessa diciamo, perché 18 anni, vedete qui, è alto, pesa poco, diciamo, è magro, diciamo che quindi è un acquisto utile anche se è in prestito, perché ho preso due giocatori in prestito voi chiederete, perché un primo giocatore mi sono stati suggeriti, o almeno Jedwaj mi è stato suggerito, e non so come erano in realtà, visto che FIFA non utilità più il totale dei giocatori, e quindi niente, ho preso due giocatori in prestito, vediamo come vanno, ecco, se migliorano molto, se rimangono uguali, non li compro, se migliorano molto potrei anche riscattarli, perdiamo altro tempo e iniziamo bene, siamo qui, siamo, mi sembra, a Latina, no, sì, a Latina più in Lazio stiamo, alla Loa Park, è grande stadio questo, guardate, con la grazia stupenda per uno stadio stupendo, va bene, questa è la classifica, 17-20, e 48-3-2-2-3-2-3-2-2-3-3-3-2-3-3-2-3-2-3-3-3-3-2-3-3-3-4-2-3-3-3-3-3-3-2-3-3-3-3-2-3-3-3-3-2-3-3-4-3-2-3-3-3-2-3-3-3-3-4-2-3-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-4-3-2-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Chi è? Questa è la tempesta, si porta in tentazione A trentesimo minuto Grande azione del Varese Questa è la tempesta, incoronata vincente Ecco che non si disposa, non è di più Veramente così, però non è È un contesto Ancora l'ho Ma Paolo Madonna Angolo, angolo Ma che tira ha fatto, ha tirato una cosa stranissima 3.60 l'ha presa No, 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 no La Madonna Porco Dio, c'è il gol Ma io tu No, perché fuori, perché Pittaneva Secondo tempo incomincia Merda, che cazzo di passaggio gli ha fatto, bravo Se Dio stavolta sei uscito Dio un po' Dio un po' Anche Dio? L'ho Dio un po' Dio un po' Dio un po' Dio un po' Giordi? E' un po' Suorito Invece Si Si Muod anche di testa ma si segnava anche di testa cristiano no peccato riusciata e faccio qualcosa e faccio solo un video l'abbiamo messo nel culo ai latinensi come cazzo si dice non lo so proprio ai latini 1 3 punti pesanti bene siamo qui siamo contro il bar giochiamo a casa ha andato al bari ci ha battuto sì io li voglio battere perché mi stanno sui coglioni ci hanno battuto con un gol del cazzo non so se vi ricordate era poche puntate fa perché non so come cazzo funziona qui andate al giorno buona ricordo che il bari sta attaccato a noi la quarta se la battiamo probabilmente siamo non dico qualifici non dico promossi ma poco ci manca riazione angola riazione angola la faccio un gol sua no no me l'immagino no 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 si che trapassato no 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 non segnerei mai non segnerei mai ma che tiro è ma porca troia tiravo meglio lo scalzo ecco eccolo ciao ciao e Roberto mi ha detto tra il gol quanto è un guantaccio guarda un palla e l'abbiamo e l'abbiamo lì con la mente ma io a duke mi sta incontrando palla vado da un po' che mi deve segnare non segna più cioè segna di rado adesso oh c'è cazzo di istruzzi il primo per amore di fare di questo e abbracciare paio l'ultimo e mi toccare i perfei però adesso cazzo finisce qui praticamente dici tre tire lo hanno fatto finisce qui 2 a 0 a rese abbiamo asfaltati anche questi partita tranquilla partita abbastanza tranquilla ma anche vabbè anche questa asfaltati aumentare passate attra 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 Grazie a tutti.